Si fermano a cinque successi consecutivi della T-Group Arechi, uscita sconfitta da Civitavecchia con il punteggio di 13-7. Uno stop pesante che costringe la squadra allenata da Mario Grieco ad abbandonare la seconda posizione in classifica in favore del nuoto Catania. Allo stesso tempo le impone di guardare con attenzione alle ultime due partite di campionato per non rischiare addirittura di uscire dalla zona playoff. T-Group Arechi subito avanti con una rete di Giordano che lasciava ipotizzare ben altro approccio alla gara. In due minuti il Civitavecchia ribaltava il risultato con uno straordinario checchini portandosi sul momentaneo 2-1. L'ongo rispondeva sotto misura per il 2-2, solo momentaneo però, in quanto i padroni di casa andavano nuovamente a segno con Romiti e Quaglio. Seconda frazione di gioco che mostrava lo stesso copione della prima con il Civitavecchia padrone della situazione grazie agli scatenati Quaglio e Romiti che portavano i padroni di casa sul 6-2 al termine della prima metà di gara. Scatto d'orgoglio della compagine bianco-blu nel terzo tempo che riduceva le distanze con il luongo e una doppietta di Lobov, bravi a replicare alle marcature realizzate da Checchini ad inizio ripresa. Da 8-2 a 8-5 per i padroni di casa, una parziale rimonta che lasciava sperare di poter addirittura riprendere il match. Niente di tutto questo, nel quarto tempo si concretizzava la resa definitiva della T-Gruppa Reiki, già costretta a fare a meno di Lobov e Massa usciti per limite di falli. Il Civitavecchia schiacciava il piede sull'acceleratore, imponendo un pesante parziale di 5 reti, soltanto mitigato dalla doppietta di lungo per il 13-7 finale.